io sono federico mutti sono presidente di associazione culturale bologna in musica e sono uno degli organizzatori di bologna jazz festival che è uno dei festival più antichi d'italia noi nel nostro piccolo abbiamo perso un intero festival che è stato cancellato dopo la prima giornata considerando che durava un mese e l'abbiamo perso tutto vogliamo però cercare di avere un approccio nei confronti di ciò che ci accade questo per per natura nostra ecco un approccio costruttivo di base all'interno di questa tragedia che è accaduta che ha toccato tutti da quelli che montano i palchi a quelli che suonano ai fruitori agli organizzatori ai manager tutti io penso che che in realtà questa sia una grande occasione per il nostro paese e in genere per tutto il sistema teatrale occidentale laddove non ci sono delle tutele per rivedere completamente ciò che è fare spettacolo fare show fare arte fare cultura perché sono tante cose cioè chiamare degli artisti a suonare o a performare su un palco significa tante cose significa dover vendere dei biglietti significa rivolgersi al pubblico e quindi nel momento in cui gli artisti non sono tutelati come categoria nel momento in cui un artista ad esempio come accade nel nostro paese da sempre guadagna solo se lavora nel senso stretto di esibirsi e quindi il suo lavoro è considerato soltanto l'esibirsi e non per esempio la ricerca la sperimentazione avere un attimo di quiete finché il meccanismo in questo si crea secondo me un circolo vizioso attraverso il quale si finisce per offrire sempre più al pubblico ciò che il pubblico vuole lasciare sempre meno spazio all'artista per sperimentare quindi intraprendere nuovi cammini magari di questi dieci nove sono un cul de sac ma uno può essere un'avanguardia un'avanguardia molto importante che può influenzare tutti gli artisti che vengono dopo e quindi bene o male noi come organizzatori abbiamo sempre cercato di lasciare dei margini ma non ci sono tanti margini il fatto di trovarci all'interno di una pandemia che ha praticamente bastonato tutti e ridotto all'osso le condizioni proprio di sopravvivenza di chi fa questo mestiere secondo me mette molto più in luce le grandi contraddizioni che ci sono all'interno del sistema proprio di un intero sistema produttivo che è quello culturale quindi laddove la cultura viene vista solo come vendita di biglietti o turismo laddove la cultura viene vista soltanto come eventi che possono essere solamente patrocinati da sponsor privati insomma questo momento in cui la coscienza di tutti noi che lavoriamo nello spettacolo è stata mossa e io auspico perché io credo che non ci sarà un'altra chiamata quantomeno mi auguro di non trovarmi più in una situazione come questa io spero che in questo momento decisivo chi sta prendendo provvedimenti scrivendo leggi tenga conto di tutto quello che è stato detto in questo ultimo anno e mezzo insomma a partire dai lavoratori intermittenti che vengano tutelati fino anche a considerare che chi organizza eventi culturali produce cultura è una responsabilità che va oltre quella di organizzare un concerto detto ciò riaprire sicuramente è una sfida perché o non l'abbiamo fatto a novembre abbiamo detto riapriamo riapriamo come se niente fosse in realtà con una previsione un po' meno rosa di quello che è il nostro standard noi normalmente organizziamo un numero x di concerti in teatri club e mediamente abbiamo tra l'ottanta e il cento per cento delle sale piene per cui abbiamo dovuto considerare che ci sarebbe stata meno gente io sono onesto quando hanno chiuso i teatri in quel momento lì io ho pensato meno male per quello che mi riguarda chiaramente io avevo una rassegna che durava un mese per la quale avevamo dato sicuramente degli anticipi ma voglio dire non era ancora stata prodotta e mi trovavo che giustamente il sindaco diceva state a casa tutti ti dicevano state a casa però i teatri erano aperti e io organizzavo l'evento e dovevo sbigliettare perché noi dobbiamo sbigliettare perché almeno un terzo se non di più nel nostro bilancio è generato dall'indotto dei biglietti quindi era abbastanza paradossale e chiaramente non poteva essere il sindaco dire chiudete i teatri cioè era una cosa che andava gestita dall'alto quindi in quel momento lì ho pensato vabbè se dobbiamo chiuderci ci chiudiamo tutti poi la gestione del dopo lì si presta a numerose riflessioni che non credo che sia neanche questo il luogo adesso c'è una fase in cui si sta ragionando sul come offrire al pubblico una fruizione in sicurezza dei teatri questo dipende da tante variabili quanta disponibilità ci sarà dei vaccini quante persone si vaccineranno e quali saranno i protocolli obbligatori che permetteranno le persone di fare ciò che vogliono in assoluta libertà quindi esisterà un passaporto vaccinale o no basterà tamponarsi sono tutte domande che restano aperte quindi noi ci stiamo informando mano a mano su ciò che accade e stiamo cercando di essere il più possibile sul pezzo per garantire al nostro pubblico un ritorno in sicurezza questo sicuramente potrà parzialmente rassicurare il pubblico ma il pubblico ha passato un anno e mezzo chiuso in casa io stesso a un certo punto durante la prima fase della pandemia quando vedevo delle persone abbracciarsi in un film rimanevo stupito quando abbiamo organizzato jazz a domicilio che è stata la più lunga rassegna day by day musicale in italia non jazz cioè abbiamo fatto quasi 50 concerti giorno dopo giorno pagando tutti gli artisti i primi artisti che suonavano erano stralunati e dicevano per chi stiamo suonando tutti principianti con queste nuove tecnologie noi vediamo anche tipo persone che stanno guardando ok iniziamo a vedere ci vedono due persone pensa tre gli artisti per la prima volta cominciavano a suonare davanti a nessuno davanti a un monitor si è creata una situazione paradossale sotto tutti i punti di vista sia dal punto di vista del pubblico che da quello dell'artista si sono anche generate delle nuove opportunità dei nuovi linguaggi usare ad esempio il web è stato fino a un certo punto secondo me molto utile soprattutto quando eravamo veramente reclusi in casa cioè quando era un lockdown totale si è riusciti a sfruttare una sorta di canale empatico mediante il web che ha unito un po' tutti devo dire che dopo un po' questa formula ha perso quella quella forza infatti noi abbiamo deciso di non riproporla di non fare il festival online a ottobre abbiamo deciso di aspettare sono i momenti in cui è meglio fermarsi e riflettere però adesso credo che la sfida sia quella di riportare tutte le persone quindi quelli che lavorano per montare un palco quelli che arrivano a suonare su un palco e quelli che arrivano ad ascoltare il concerto cercare di riportarli in questo legame empatico che ha degli equilibri che sono stati stravolti e credo che ci vorrà un po' di tempo io stesso sono stato ad ascoltare anche dei concerti distanziato quando quest'estate hanno riaperto un posto ogni tre era strano cioè mi sentivo solo in mezzo a tante persone quindi anche questo sicuramente influirà sono anche preoccupato perché penso che non è molto lineare la modalità con cui le persone si stanno approcciando a questa pandemia ci sono persone che sono completamente terrorizzate ci sono persone che hanno totale fiducia nella scienza ci sono persone che negano che esista una pandemia sono persone che la riconoscono ma contestano la modalità con cui viene affrontata e per quanto questo abbia ben poco a che vedere con la musica in realtà poi ha a che vedere col nostro pubblico perché se tu dici benissimo riusciamo a offrirvi un tampone scontato a un prezzo veramente bassissimo e venite tamponati vi diamo una convenzione magari ci sono persone che non hanno mai voluto fare un tampone avere un pubblico eterogeneo significa cercare il più possibile di rispettare tutti dovremo capire qual è questo limite e dovremo tutti un po adattarci per quello che riguarda le abitudini di fruizione quindi secondo me inizialmente sarà un po più timida noi abbiamo comunque previsto di fare dei concerti nei teatri tenendo la doppia opportunità di fare un unico set un doppio set all'americana quindi prima si fa uno spettacolo si prende un tempo per sanificare il teatro e poi se ne esegue un altro io penso che finché non sarà possibile avere le persone una accanto all'altra e finché non sarà possibile sentire proprio il respiro di chi suona e anche di chi è accanto a te percepire lo stupore di chi è accanto a te che ti contagia sarà molto difficile tornare a un livello accettabile però bisogna andare avanti quindi non è una cosa che si recupera in un giorno o con un concerto è una cosa che gradualmente recupereremo però questa è una fase di transizione ecco il linguaggio degli artisti secondo me anche questo è molto interessante ci sono artisti che si sono spremuti sul web e hanno suonato 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 continuamente cercando di nutrire questo legame con gli artisti attraverso un monitor con il pubblico attraverso un monitor altri artisti hanno proprio detto ok questo è un momento per fermarsi e riflettere noi siamo molto curiosi di vedere che cosa è uscito da questo momento io non posso dirlo perché non abbiamo ancora riaperto però secondo me ci sarà tanto da dire anche perché la musica così come molteplici forme d'arte scaturiscono spesso e volentieri non soltanto ma spesso e volentieri dal tormento io però sono ottimista penso che c'è sempre un boom dopo questi momenti drammatici quindi la gente avrà voglia di uscire avrà voglia di divertirsi basta vedere come è andata l'estate scorsa ecco noi ci siamo noi abbiamo programmato due cose abbiamo programmato l'estate agli spazi dumbo che sono spazi all'aperto ma coperti da una tettoia quindi questo ci agevola e a novembre abbiamo organizzato un festival bene o male più o meno allo stesso livello di quello degli anni passati forse un po più compresso quindi in 15 giorni anziché in 30 siamo molto ottimisti perché altro non ci rimane è sempre grazie